Maddalena avrebbe contratto il virus ad Amici, la smentisce, non mi ha parlato di Covid. Secondo l'indiscrezione lanciata da Dago Spia, ad Amici 22.2 allievi sarebbero risultati positivi al Covid e la registrazione della semifinale. Prevista per il 6 maggio, sarebbe a rischio. Per il momento non ci sono state notizie ufficiali da parte del programma. Ma stando ad alcune voci diffuse sui sociali concorrenti coinvolti sarebbero Mattia Cenzuola e Maddalena Svevi. La mamma della ballerina, però, è intervenuta per fare chiarezza. Paola Ghiglione, mamma di Maddalena Svevi, ha smentito la positività della figlia al Covid. Come mostra lo screen condiviso dalla pagina Amici News, la donna ha scritto di aver parlato con la ballerina e che lei non ha mai fatto riferimento al virus. Dicendosi solo stanca per via delle numerose ore di prove, ieri Maddi mi ha chiamato. Non mi ha parlato di Covid. Lei era felicissima ma stanca perché era in studio a provare dalle 8. Ad aver contratto il virus, stando alle versioni di Amadeuvenza su Instagram. Sarebbe stato anche Mattia Cenzuola. E mentre la madre di Maddalena è intervenuta per smentire. Per quanto riguarda il ballerino non ci sono al momento aggiornamenti. Non si sa. Quindi, se attualmente sia o meno positivo al Covid. Questo metterebbe a rischio la semifinale di Amici. Che dovrebbe andare in onda sabato 6 maggio e la cui registrazione sarebbe prevista per giovedì 4 maggio presso gli studi di Roma. Come ogni settimana. Il programma di Maria De Filippi non si è ancora esposto ai riguardo. I concorrenti rimasti in gara sono 6, compresi Maddalena e Mattia. Gli altri sono Angelina. Aaron, Isobel e Wax, mentre l'ultimo eliminato è stato Cricca. La finale sarà in diretta. A differenza del resto delle puntata, e la data prevista dovrebbe essere il 14 maggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti